Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 guidare con prudenza per la nebbia a banchi tra Incisa Reggello e Arezzo. In FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sulla statale 2 via Cassia ha chiuso fino al 7 gennaio il tratto in entrambe le direzioni tra i chilometri 144.800 e 152.500 radicofani in provincia di Siena a causa di una frana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Bruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Muoversi in Toscana Info